Ha creato delle infrastrutture del tutti inutili, ha bloccato dei cantieri, ha in una qualche maniera ingessato uno sviluppo, una produttività che gli italiani romagnoli hanno endemi, hanno loro, hanno propria. E' per questo che dico che il Partito Democratico, da inutile, sta diventando dannoso ed è il motivo per il quale noi dobbiamo mandarlo a casa e lo potremo fare se tutti assieme il 26 gennaio non delegando ad altre responsabilità. Il 26 gennaio passa da un piccolo gesto, un piccolo grande gesto, a porre una croce su un simbolo di Fratelli d'Italia e da qui, da oggi, da questa sera al 26 gennaio, lavorare perché appunto nelle piazze, nei bar, nei contesti, vi sia la possibilità di indurre un amico, una persona, un parente, a mettere anche la croce su un simbolo di Fratelli d'Italia. Perché, come dicevo prima, noi abbiamo, certo, anche il diritto di rivendicare la possibilità di una vittoria, abbiamo il dovere di dare un futuro migliore ai nostri figli, di quell'Emilia Romagna che noi abbiamo trovato, grazie a questi signori che oggi ce la consegna, non è lo Stato che purtroppo conosciamo. Grazie davvero, un buon nuovo amore, un altro consiglio di Fratelli d'Italia. Grazie. 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 Grazie.